Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video Q&A, quindi mettetevi comodi, mettete le cuffie, ascoltatemi mentre mangiate, mentre sistemate la casa. È quello che solitamente faccio io quando guardo un video chiacchiericcio su YouTube. Voglio andare subito al dunque e aggiornarvi rispetto a due vlog fa perché ho fatto l'esame, l'ho passato, quindi sono ufficialmente tecnico federale FIPE. Significa che sono una personal trainer. Dopo che ve l'ho detto su Instagram, la domanda più popolare è stata quella in cui mi chiedevate se adesso ho intenzione di lavorare come personal trainer o fare comunque coaching, soprattutto coaching online. Allora la mia risposta è no, non ho intenzione di lavorare come personal trainer o soprattutto di fare coaching online. Essenzialmente perché ad oggi non è una cosa che sento mia, non mi ispira, non voglio dire non mi piace, però non è una cosa che sento che voglio fare. Penso che non ci sia nulla di male in realtà a dirlo perché non tutti quelli che sono nel mondo del fitness devono per forza essere dei personal trainer o lavorare come tali. Io ho deciso di compiere questo percorso e prendere questa certificazione per darmi più credibilità anche sulla carta, ma principalmente l'ho fatto per accrescere il mio bagaglio personale e soprattutto per portarvi contenuti più validi, tecnici e sempre meno o comunque non solo basati solo sulla mia esperienza personale. Non ho niente contro chi fa coaching online, anzi, però penso che chi lo fa debba strutturarlo veramente bene. Adesso grazie alla tecnologia si possono fare foto, video, persino delle Skype call, quindi se voi vi rivolgete a un coach online vi prego di richiedere una valutazione funzionale che è la valutazione fatta pre-inizio percorso dove il coach vi guarda e capisce come siete fatti e come lavorare in sicurezza in base al vostro corpo, al vostro fisico. Un altro consiglio che mi sento di dare a chi desidera di essere seguito da un coach online è quello di non fermarsi o limitarsi a guardare il numero di followers e il profilo Instagram perché non sono questi i fattori che determinano la bravura e la capacità di un personal trainer. Secondo me i fattori sono essenzialmente due. Uno, la provenienza dei suoi certificati, se è un laureato in scienze motoriche e poi ha fatto la specializzazione oppure se è una persona che ha fatto dei corsi riconosciuti a che livello, eccetera. E secondo l'esperienza. A mio parere l'esperienza sul campo batte il pezzo di carta, però è giusto che voi siate informati su tutto al fine di prendere una decisione consapevole perché state mettendo la vostra vita, la vostra salute in mano ad una persona quindi è giusto che questa persona abbia le competenze giuste per gestirla. Infine, giusto per completare il discorso personal trainer, mi raccomando i personal trainer non possono scrivere diete, non vi possono scrivere piani alimentari, è abuso d'ufficio. Vi possono prescrivere diete soltanto i medici, i biologi nutrizionisti e i dietologi dietisti, uno dei due dietro consenso medico, non me lo ricordo in questo momento, e i personal trainer possono soltanto darvi consigli, ma consigli del tipo quelli che vi do io, del tipo mangia sano perché stai meglio, non mangiare a colazione il fritto perché ti appesantisce, capito? Cioè, consigli da rivista, da una moderna, insomma. Continuiamo con la prossima domanda che è una curiosità. Qual è la tua più grande paura? Allora, è quella di farmi male, di cadere, rompermi una gamba o persino perdere una gamba o un arto. Non è una paura che mi impedisce di fare trekking, snowboard, surfare, tuffarmi, eccetera, o che mi impedisce di vivere la mia vita quotidiana, perché non ho paura del dolore che proverei, ho più paura di tutto ciò che dovrei affrontare dopo. Perché reputo che non sarei abbastanza forte nel recuperare e riprendermi in mano la mia vita, come ho visto fare a tante persone che ho conosciuto in questi anni e che ho ammirato tantissimo, perché io li guardavo e pensavo io quella forza non sento di avercela. È ovvio che sono pensieri che io faccio adesso, magari spero di no veramente. Se mi succede, poi scopro una forza in me che mai immaginavo di avere, però ho paura, ho veramente paura che mi succeda e che poi mentalmente io, a causa di tutto quello che poi succede, di quello che è, di stare ferma, di non poter più fare sport come piace a me, ho paura poi di regredire a livello mentale a vecchi comportamenti e quindi ritornare indietro. Sono un po' un mix di paure in realtà, che spero e mi auguro di non dover mai affrontare e basta. Ok, passiamo alla domanda un pochino più allegra. Andrai in montagna con Jimmy? Se sì farà dei vlog, vero? Certo. Ritorneremo in Val Gardena anche quest'anno. Non sappiamo ancora quando, dobbiamo organizzarci, ma sarà l'anno prossimo, 2020, e ovviamente vi porterò con me video, vlog, eccetera. Libri da consigliare? Allora, assolutamente sì, però dipende da che genere volete leggere. Io amo, amo i thriller, praticamente leggo solo quelli. I miei scrittori preferiti sono Donato Carrisi, di cui è uscito anche il film nelle sale recentemente. Spazzesco. Cioè, è stato bellissimo, invece da morire. Un altro scrittore molto bravo, che leggo, che non è italiano, è Brian Freeman. Ha scritto tanti libri, ne ho letti un paio, thriller, mi piacciono. Infatti adesso, per le vacanze di Natale, per le Filippine, acquisterò altri libri da mettere dentro il Kindle. Non so perché continuo a fare così. Comunque. Un altro scrittore è ovviamente Dicker, con la sua saga sulla verità del caso Eric Evert. Ragazzi, io leggo solo questi tipo di libri. Non sono molto ferrata su altre tipologie, se non thriller. Però, un'altra domanda, che da qualche parte ho trovato, serie Netflix consigliate? Allora, sì, ne ho tantissime, non vi faccio la lista ora, ma vi rimando al mio sito internet, dove, nella sezione serie TV, c'è una lista di tutte le serie TV, che consiglio. Se la trovate lì, significa che l'ho guardata e che mi piace. Se non c'è, magari l'ho già guardata, ma non mi è piaciuta e non l'ho trovata degna di entrare nell'elite delle mie serie TV preferite. Ho ricevuto tante altre domande, che ho deciso di tenermi da parte, per poi poterci fare un video dedicato, completo. Quindi, fidatevi che arriveranno. Piano piano. Altra domanda. Ti piace davvero TikTok? Allora, sono approdata su TikTok circa tre settimane fa e all'inizio non lo capivo. Per me non... Ho continuato a pensare che non fosse il social per me, per i miei tipi di contenuti e per ciò che volevo comunicare con i miei social. Perché, sì, io vi porto con me nella mia vita, sì, io vi faccio vedere chi sono, cosa faccio, eccetera, però tutti i miei contenuti hanno un motivo dietro. Comunque, l'idea di darvi idee di ricette, allenamenti, darvi consigli, cercare di stimolarvi a farvi vivere uno stile di vita sano. E non vedevo su TikTok un motivo per esserci. Perché ci sono tutti ragazzini o comunque gente che fa balletti o fa cose mediamente intelligenti. Però, ho fatto un po' di brainstorming e ho trovato un modo per riuscire a comunicare il mio messaggio anche su una piattaforma come TikTok. E devo dire che ho avuto un bel riscontro, sono molto soddisfatta, devo dire che mi appaga persino più di Instagram e mi sto divertendo, mi sta piacendo veramente tanto. sono qui che ogni tanto mi esce un'idea da poter rendere in video per TikTok e vedo che sta andando bene. Non ho ben capito come funzionano le visualizzazioni, mi sembra un po' in realtà finto perché ci sono video che vanno a 100.000 visualizzazioni, altri che rimangono basse, non capisco da cosa dipenda. Però mi sta piacendo e mi sta divertendo. non mi piace il fatto che ci siano troppi numeri, cioè Instagram ha tolto il numero di like, il numero di commenti visibili, proprio per aiutarci a toglierci da questa mentalità se è un numero vali il numero di visualizzazione, il numero di like, TikTok è basato solamente su quello. C'è gente che fa roba assurda per vedere quel numero salire, salire, salire nel suo video e questa è la malattia dei social che purtroppo grazie a TikTok arriva a colpire molte più persone perché su TikTok ci sono molti più creators di Instagram cioè Instagram è utilizzato o dalla persona normale tra virgolette per i propri amici per postare foto dei propri viaggi delle proprie cose eccetera o dal micro macro influencer per fare l'influencer quindi lavorare eccetera quindi io vedo questi due mondi dove l'influencer magari è più attratto interessato a sapere i dati i numeri mentre la persona media se ne sbatte invece su TikTok vedo che tutti soprattutto la persona media può diventare virale e quindi questa possibilità ha fatto sì che tutti diventassero creator e che tutti tutti quelli che ci sono facciano di tutto per diventare virali fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa molto curiosa molto interessante si sta evolvendo un po' tutto vediamo se riesco a fare l'ultima domanda non senti mai il bisogno di intraprendere un percorso di psicoterapia? allora sì io l'ho già intraprese un percorso di psicoterapia durato due anni e l'ho concluso quando mi sono trasferita poi a Piacenza non sento il bisogno di ritornare in psicoterapia perché ho imparato tanto riguardo a me stessa so quando sto avendo dei momenti un po' così termine tecnico e so come reagire cioè parlando mi parlando ne a Jimmy alle mie amiche a mia famiglia cercando supporto da loro e facendo un passo indietro sono dei metodi che ho appreso nel tempo per gestire la mia vita e le mie emozioni non trovo nulla di male nella psicoterapia anzi è una cosa che a me ha salvato perché io senza la mia psicologa non sarei qui oggi e sono assolutamente convinta e lo dirò sempre quindi se voi vi sentite un po' persi e non riuscite a trovare una soluzione ragazzi andate dallo psicoterapeuta dallo psicologo andate da chi volete fatevi ascoltare parlate perché è normale non è una cosa da pazzi non va dallo psicologo chi è fuori di testa ci va chi anzi ha capito che ha bisogno di aiuto e credetemi ne ho viste di ogni chi è capace di ammettere di aver bisogno di aiuto è molto più avanti a livello mentale rispetto a chi nega tutto continua a negare tutto e preferisce nascondersi e nascondere le proprie emozioni agli altri a se stesso cioè ma di cosa stiamo parlando qua bu vabbè niente allora questo Q&A si conclude qua spero di non essere stata troppo prolissa e di aver stimolato un po' la vostra curiosità fatemi sapere scrivetemi nei commenti cosa pensate degli argomenti che ho trattato e possiamo parlarne mi piace tantissimo parlare con voi ho letto tanti commenti che mi avete lasciato nel mio ultimo vlog dove mi sono un pochino aperta a voi e mi avete fatto sentire meno sola quindi grazie e basta noi ci vediamo nel prossimo video che mi avete già consigliato quindi adesso mi metto all'opera un forte abbraccio un grande bacio ciao 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 ciao